Allora, questi sono gli ultimi due pezzi, vorremmo ringraziare ai ragazzi di Scalo Playground, qua sempre, a tutto lo staff, agli amici, ai nemici, a Marco, come sempre presente, un amico qua ai Skinheads, questo è Frank, grazie, ci vediamo dopo il prossimo lockdown, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti